In nomine Padre, Siete figli e Spiritus Sancti, Pater Noster, qui es in Cielis, Santificedur Nomen Tuum, Adveniat Regnum Tuum, Fiat Voluntas Tua, sicud in Cielo et in Terra. Panev Nostrum Quadidianum da nobis odiet, et imite nobis debita nostra, sicud et nos dimittimos debitoricus nostris, et na nos indugas indendazionem, sed liberanos amalo. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Con queste parole di Isaia, iniziava la prima lettura della seconda domenica di Avvento. È un invito, anzi un comando, perennemente attuale, rivolto ai pastori e ai predicatori della Chiesa, in particolare. E oggi, Santo Padre, Venerabili Padre, Fratelli e Sorelle, vogliamo raccogliere questo invito e meditare sull'annuncio in assoluto, il più consolante, che la fede in Cristo ci offre. La seconda verità che la situazione della pandemia ha riportato a galla è la precarietà e la transitorietà di tutte le cose. Tutto passa. Ricchezza, salute, bellezza, forza fisica. È qualcosa che abbiamo sotto gli occhi di tutto il tempo. Basta confrontare le foto di oggi, nostre o di personaggi celebri, con quelle di venti, quaranta anni fa, per rendercene conto. Storditi dal ritmo della vita, noi non facciamo caso a tutto ciò. Non ci soffermiamo per trarne le dovute conseguenze. Ed ecco che, di colpo, tutto quello che davamo per scontato si è rivelato fragile. Come una lastra di ghiaccio sottile sulla quale si sta patinando allegramente che improvvisamente si rompe sotto i piedi e ci fa andare a fondo. La tempesta, diceva il Santo Padre in quella memorabile benedizione Urbi e Torbi del 27 marzo scorso, smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false, superfle sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. La crisi planetaria che stiamo vivendo può essere l'occasione per riscoprire con sollievo che c'è, nonostante tutto, un punto fermo, un terreno solido, anzi una roccia, su cui fondare la nostra esistenza terrenica. La parola Pasqua, pesacchi in ebraico, significa passaggio e in latino per questo si traduce transitus. Questa parola evoca anch'essa qualcosa di passeggero, di transitorio, dunque qualcosa di tendenzialmente negativo. Sant'Agostino ha percepito questa difficoltà e l'ha risolto in un modo illuminante. fare la Pasqua, ha spiegato, significa sì passare, ma passare a ciò che non passa. Significa passare dal mondo per non passare con il mondo. Passare con il cuore prima di passare con il corpo. ciò che non passa mai è per definizione l'eternità. Dobbiamo riscoprire la fede in un al di là della vita. È questo uno dei grandi contributi che le religioni possono dare insieme allo sforzo per creare un mondo migliore, più fraterno. essa ci fa capire che siamo tutti compagni di viaggio, in cammino verso una patria comune, dove non esistono distinzioni di razza, di censo, di nazione. non abbiamo in comune le varie religioni, solo il cammino, ma anche la meta. Con concetti e in contesti assai diversi, questa è una verità comune a tutte le grandi religioni, almeno a quelle monoteistiche. Chi, infatti, si avvicina a Dio deve credere che egli esiste e che ricompensa coloro che lo cercano. Così la lettera agli ebrei riassume la base comune, per così dire, il minimo denominatore comune di ogni fede, di ogni religione. C'è Dio, c'è una ricompensa. Per i cristiani la fede nella vita eterna non si basa su discutibili argomenti filosofici circa l'immortalità dell'anima. Si basa su un fatto preciso, la risurrezione di Cristo. E si basa contemporaneamente sulla sua promessa. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. Pensa Giovanni XIV. Per noi cristiani la vita eterna non è neppure una categoria astratta, è piuttosto una persona. Significa andare a stare con Gesù, a fare corpo con Lui risuscitato, a condividere il suo stato di risorto nella pienezza del gaudo ineffabile della vita trinitaria. Cupio dissolvi e tesse con Cristo, diceva Paolo ai filippesi. Desidero lasciare questa vita per andare a stare con Cristo. Ma che è successo, venerabili pari, fratelli e sorelle, alla verità cristiana della vita eterna? Nel nostro tempo, dominato dalla fisica e dalla cosmologia, l'ateismo si esprime soprattutto come negazione dell'esistenza di un creatore del mondo. Nel secolo XIX, esso si è espresso di preferenza invece nella negazione di un al di là. Hegel aveva affermato «I cristiani sprecano in cielo le energie destinate alla terra». Raccogliendo questa critica, Feuerbach e soprattutto Marx hanno combattuto contro la credenza in una vita dopo la morte, affermando che essa aliena dall'impegno terreno. All'idea di una sopravvivenza personale in Dio si sostituisce così l'idea di una sopravvivenza nella specie o nella società del futuro. A poco a poco, con il sospetto, sono caduti sulla parola eternità, l'oblio e il silenzio. E la secolarizzazione ha fatto il resto, al punto da far apparire sconveniente, addirittura fuori gusto, che si parli ancora di eternità tra persone colte a passe con i tempi. La secolarizzazione, lo sappiamo, è un fenomeno complesso, ambivalente. Può indicare l'autonomia delle realtà del rene e la separazione tra il regno di Dio e il regno di Cesare. E in questo senso essa non solo non è contro il Vangelo, ma trova in esso una delle radici più profonde. La parola secolarizzazione può però indicare anche tutto un insieme di atteggiamenti ostili alla religione e alla fede, e dunque alla vita eterna. in questo senso si preferisce usare il termine secolarismo. Il secolarismo sta alla secolarizzazione come lo scientismo sta alla scientificità e come il razionalismo sta alla razionalità. Nel aspetto negativo. Anche così definito il fenomeno della secolarizzazione presenta molte facce a seconda dei campi in cui si manifesta. la teologia, la scienza, l'etica, l'ermeneutica biblica, la cultura, la vita quotidiana. Il suo senso primordiale tuttavia è unico e chiaro. Secolarizzazione come secolarismo deriva dalla parola seculum che nel linguaggio comune ha finito per indicare il tempo presente, leone attuale, secondo la Bibbia, in opposizione al leone futuro o i secoli dei secoli. come si esprime la Bibbia. In questo senso, secolarismo è sinonimo di temporalismo, di riduzione del reale alla sola dimensione terrena. Significa radicale eliminazione dell'orizzonte dell'eternità dalla vita umana. tutto questo ha avuto purtroppo un chiaro contraccolpo sulla fede dei credenti. Essa si è fatta su questo punto timida e reticente. Quando abbiamo sentito l'ultima volta una predica tutta sull'eternità? aveva ragione il filosofo Kierkegaard l'aldilà scriveva è diventato uno scherzo un'esigenza così incerta che non solo nessuno più la rispetta ma anzi neppure più la prospetta al punto che ci si diverte perfino al pensiero che c'era un tempo in cui quest'idea improntava tutta l'esistenza umana noi continuiamo a recitare nel credo aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà ma diciamo la verità non ci soffermiamo mai troppo su queste parole la caduta dell'orizzonte dell'eternità ha sulla fede cristiana l'effetto che ha la sabbia gettata su una fiamma la soffoca la spegne san paolo riferisce il proposito di coloro che non credono nella risurrezione dei morti mangiamo beviamo tanto domani moriremo il desiderio naturale di vivere sempre distorto diventa desiderio o frenesia di vivere bene cioè piacevolmente anche a spese degli altri se necessario la terra diventa quello che Dante Alighieri diceva dell'Italia del suo tempo la iuola che ci fa tanto feroci caduto l'orizzonte dell'eternità la sofferenza umana appare doppiamente e irrimediabilmente assurda il mondo somiglia è stato detto a un formicaio che si sgretola e l'uomo ha un disegno creato dall'onda sulla riva del mare che l'onda successiva cancella la fede nella vita eterna costituisce una delle condizioni di possibilità dell'evangelizzazione se Cristo non è risorto scrive l'Apostolo vuota è la nostra predicazione vuota anche la nostra fede se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita siamo da commiserare più di tutti gli uomini l'annuncio della vita eterna costituisce la forza e il mordente della predicazione cristiana guardiamo quello che avvenne nella primissima predicazione evangelica l'idea più antica e più diffusa nel paganesimo greco-romano era che la vita vera termina con la morte dopo di essa c'è solo un'esistenza da larve in un mondo di ombre evanescente e incolore sono note le parole che l'imperatore romano Adriano rivolse a se stesso prima di morire e che poi volle come epitafio della sua tomba non so se esiste ancora piccola anima mia smarrita suava compagna e ospite del corpo ora t'appresti a scendere in luoghi incolori aspri e spogli dove non avrai più gli svaghi consueti un istante ancora guardiamo per l'ultima volta le rive familiari le cose che certamente non rivedremo mai più per un uomo che in vita aveva fatto costruire per sé delle dimore di un lusso incredibile e chi è stato ha visitato la villa Adriana vicino a Tivoli lo sa vero questa prospettiva risultava naturalmente ancora più sconsolante che per i comuni mortali per la propria tomba quest'imperatore aveva edificato il mausoleo Adriano l'attuale Castel Sant'Angelo ma sapeva bene che questo non avrebbe cambiato il suo destino che era di avviarsi luoghi incolori e senza svaghi su questo sfondo si comprende l'impatto che doveva avere l'annuncio cristiano di una vita dopo la morte infinitamente più piena e più luminosa di quella terrena senza più lacrime né morte né affanno si capisce anche perché il tema e i simboli della vita eterna il pavone la palma le parole requies eterna sono così frequenti nelle sepolture cristiane delle catacombe nell'annunciare la vita eterna noi possiamo far leva oltre che sulla nostra fede anche sulla corrispondenza di essa con il desiderio più profondo del cuore umano noi infatti siamo esseri finiti capaci di infinito ens finitum capax infiniti dicevano i scolastici esseri mortali con un innato da anelito all'immortalità a un amico argentino che gli rimproverava quasi fosse una forma di orgoglio e di presunzione il suo tormentarsi circa il problema dell'eternità miguel de unamuno non certo un apologeta cristiano rispose in una lettera così non dico che meritiamo un al di là né che la logica ce lo dimostri dico che ne abbiamo bisogno lo meritiamo o no e basta dico che ciò che passa non mi soddisfa che ho sete di eternità e che senza questa tutto mi è indifferente ne ho bisogno ne ho bisogno senza di essa non c'è più gioia di vivere e la gioia di vivere non ha più nulla da dirmi è troppo facile affermare bisogna vivere bisogna accontentarsi della vita e quelli che non se ne accontentano e aggiungeva non è chi desidera l'eternità che mostra di disprezzare questo mondo e la vita di qua giù ma al contrario chi non la desidera amo tanto la vita diceva che perderla mi sembra il peggiore dei mali non amano veramente la vita coloro i quali se la godono giorno per giorno senza curarsi di sapere se dovranno perderla del tutto o no sant'agostino diceva la stessa cosa a che giova vivere bene diceva se non è dato vivere sempre qui di protest bene vivere se non dato sempre vivere e un nostro poeta non è tanto conosciuto Fogazzaro ha un verso bellissimo dice tutto tranne l'eterno al mondo è vano o se volete qualche volta la potete cambiare io la cambio tutto tranne Gesù al mondo è vano agli uomini del nostro tempo che coltivano dal cuore questo bisogno di eternità senza forza avere il coraggio di confessarlo neppure a se stessi noi possiamo ripetere ciò che Paolo diceva agli Atenesi quello che voi desiderate senza conoscerlo io ve lo annuncio una rinnovata fede nell'eterità non ci serve solo per l'evangelizzazione cioè per l'annuncio da fare agli altri ci serve prima ancora per imprimere un nuovo slancio al nostro cammino di santificazione il suo primo frutto è quello di renderci liberi di non attaccarci alle cose che passano immaginiamo venerabili padri e fratelli questa situazione una persona ha ricevuto lo sfratto e deve lasciare tra breve la sua abitazione fortunatamente gli si presenta la possibilità di avere subito una nuova casa ma lui che fa spende tutto il suo denaro per rimodernare abbellire la casa che deve lasciare anziché arredare quella in cui deve andare non sarebbe da stolto ora noi siamo tutti degli sfrattati in questo mondo e somigliamo a quell'uomo stolto se pensiamo solo ad abbellire la nostra casa terrena senza preoccuparsi di fare opere buone che ci seguiranno dopo la morte nella nuova casa la fievolirsi dell'idea di eternità agisce nei suoi credenti diminuendo in essi la capacità di affrontare con coraggio la sofferenza e le prove della vita dobbiamo ritrovare un po' la fede di un San Bernardo o di un San Dignasio di Loyola in ogni situazione davanti a ogni ostacolo essi dicevano a se stessi quid hoc ad eternitate che cos'è questo in confronto all'eternità pensiamo a un uomo con una bilancia in mano una di quelle bilance in italiano si chiamano stadere che si reggono con una mano sola e hanno da un lato il piatto su cui mettere le cose da pesare e dall'altro una barra graduata che regge il peso o la misura se cade a terra o si smarrisce la misura tutto quello che si mette sul piatto fa sollevare la barra in alto e fa inclinare a terra la bilancia tutto è il sopravvento anche un pugno di piume così siamo noi quando smariamo la misura di tutto che è l'eternità le cose le sofferenze terrene gettano facilmente la nostra anima a terra tutto ci sembra troppo pesante eccessivo Gesù diceva paradossalmente se la tua mano ti è di ostacolo tagliala se il tuo occhio ti è di ostacolo cavalo è meglio entrare nella vita con una mano sola o con un occhio solo anziché con tutti e due essere gettato nel fuoco eterno ma noi avendo perso di vista l'eternità troviamo già eccessivo che ci si chieda di chiudere gli occhi davanti a uno spettacolo immorale o di portare in silenzio una piccola croce o di tollerare una contraddizione San Paolo osava scrivere il momentaneo leggero peso della nostra sofferenza ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria cioè che noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili ma su quelle invisibili le cose visibili sono ad un momento quelle invisibili eterne il peso della tribolazione è leggero proprio perché è momentaneo quello della gloria è smisurato proprio perché è eterno per questo lo stesso apposto lo può dire penso che le sofferenze del tempo presente non hanno un valore proporzionato alla gloria che si manifesterà in noi molti si chiedono in che consisterà la vita eterna e che faremo tutto il tempo in cielo la risposta è nelle parole apofatiche dell'Apostolo Paolo occhio occhio non vide orecchio non udì nemmai entrò in cuore di uomo quello che Dio tiene preparato per coloro che lo amano se è necessario balbettare qualche cosa diremmo che vivere la vita eterna significa vivere immersi nell'oceano senza rive senza fondo dell'amore trinitario ma non ci annoieremo domandiamo a dei veri innamorati se si annoiano al culmine del loro amore e se non vorrebbero piuttosto che quell'istante durasse in eterno dobbiamo dissipare un dubbio che pesa sulla credenza della vita eterna per il credente l'eternità non è solo una promessa e una speranza o come pensava Carlo Marx un'illusione essa è anche una presenza un'esperienza in Cristo la vita eterna che era presso il Padre si è fatta visibile noi diceva San Giovanni l'abbiamo udita vista con i nostri occhi contemplata toccata con Cristo il verbo incarnato l'eternità ha fatto irruzione nel tempo e noi ne facciamo l'esperienza ogni volta che facciamo un vero atto di fede in Cristo perché chi crede in Lui possiede già la vita eterna dice prima lettera di Giovanni ogni volta che riceviamo la comunione perché in essa ci viene dato il pegno della gloria futura ogni volta che ascoltiamo le parole del Vangelo che sono parole di vita eterna Santo Maso d'Aquino diceva lapidariamente la grazia è l'inizio della gloria questa presenza dell'eternità nel tempo si chiama con nome proprio lo Spirito Santo egli è definito la caparra della nostra eredità e ci è stato dato perché avendo ricevuto le premisse noi anelliamo alla pienezza Cristo scrive Sant'Agostino ci ha dato la caparra dello Spirito Santo con la quale Lui che comunque non ci potrebbe ingarnare ha voluto renderci sicuri del compimento della sua promessa che cosa ha promesso? Ha promesso la vita eterna di cui la caparra è lo Spirito Santo tra la vita di fede nel tempo che stiamo vivendo noi e la vita eterna c'è un rapporto analogo a quello che esiste tra la vita dell'embrione nel seno materno e quella del bambino venuto alla luce scrive il grande teologo medievale bizantino Nicola Cabasilas questo mondo porta in gestazione l'uomo interiore nuovo creato secondo Dio finché egli qui plasmato modellato e divenuto perfetto non sia generato a quel mondo perfetto che non invecchia al modo dell'embrione che mentre è nell'esistenza tenebrosa e fluida la natura prepara la vita nella luce così è dei santi per l'embrione tuttavia la vita futura è assolutamente futura non giunge a lui nessun raggio di luce nulla di ciò che è di questa vita non così per noi dal momento che il secolo futuro è già stato riversato e commisto a questo presente perciò già ora è concesso ai santi non solo di sporsi e prepararsi alla vita ma di vivere e di operare in essa esiste una storiellina che illustra questo paragone della gestazione e della nascita e mi permetto venerano i miei pari e fratelli e sorelle di raccontarlo nella sua semplicità perché è istruttivo c'erano due gemellini un maschietto e una femminuccia così intelligenti e precoci che ancora nel grembo della madre parlavano già tra di loro la bambina domandava al fratellino secondo te ci sarà una vita dopo la nascita? lui rispondeva non essere ridicola e cosa ti fa pensare che ci sia qualcosa al di fuori di questo spazio angusto e buio nel quale ci troviamo la bimba facendosi coraggio chissà forse esiste una madre qualcuno insomma che ci ha messi qui e che si prenderà cura di noi e lui vedi forse una madre da qualche parte quello che vedi è tutto quello che c'è ma lei di nuovo ma non senti anche tu a volte come una pressione sul petto che aumenta di giorno in giorno e ci spinge in avanti a pensarci bene rispondeva lui è vero la sento tutto il tempo vedi concludeva trionfante la sorellina questo dolore non può essere per nulla io penso che ci stia preparando per qualcosa di più grande di questo piccolo spazio la chiesa dovrebbe essere la voce di quella bambina che aiuta gli uomini a prendere coscienza di questo loro anelito inconfessato a volte perfino ridicolizzato dobbiamo assolutamente sentire smentire l'accusa da cui è partito il sospetto moderno contro l'idea della vita eterna quello secondo cui l'attesa dell'eternità distoglie dall'impegno per la terra e dalla cura del creato prima che le società moderne si assumessero esse stesse il compito di promuovere la salute e la cultura di migliorare le condizioni le coltivazioni della terra le condizioni di vita chi ha portato avanti questi progetti più e meglio dei monaci che vivevano di fede nella vita eterna pochi sanno forse che il cantico delle creature di francesco d'assisi è nato proprio da un sussulto di fede nella vita eterna così le fonti francescane descrivono la genesi del cantico una notte che francesco era particolarmente sofferente per le sue numerose dolorosissime infermità disse in col suo signore vieni in soccorso delle mie infermità affinché io possa sopportarle con pazienza e subito gli fu detto in spirito francesco dimmi se uno in compenso delle tue malattie e sofferenze ti donasse un grande prezioso tesoro non considereresti tu come niente a paragone di tale tesoro la terra le pietre preziose le acque non ne saresti felice rispose francesco signore questo sarebbe un tesoro veramente grande incomparabile prezioso e amabile desiderabile la voce conclusa allora sii felice ed esultante nelle tue infermità d'ora in poi vivi nella serenità come se tu fossi già nel mio regno alzatosi al mattino sempre le fondi francescane francesco disse ai suoi compagni io devo molto godere adesso in mezzo ai miei mali e dolori e rendere grazie sempre a dio per la grazie e benedizione così grande che mi è stata elargita ed infatti si è degnato nella sua misericordia di donare a me suo piccolo servo indegno ancora vivente qua giù la certezza di possedere il suo regno eterno voglio quindi all'odo di dio e a mia consolazione per edificazione del prossimo comporre una nuova lauta del signore per le sue creature ogni giorno usiamo delle creature e senza di loro non possiamo vivere e ogni giorno ci mostriamo ingrati per questo grande beneficio e non ne diamo lode come dovremmo al nostro creatore e postosi a sedere si concentrò a riflettere e poi disse altissimo onnipotente buon signore nacque il cantico il pensiero della vita di Enna non gli aveva ispirato il disprezzo di questo mondo e delle creature ma un entusiasmo e una gratitudine ancora più grande e gli avevano reso più facile sopportare il dolore presente la nostra meditazione odierna sull'eternità venerabili padri fratelli e sorelle non ci esime certo dello sperimentare come tutti gli altri la durezza della prova che stiamo vivendo dovrebbe però almeno aiutare noi credenti a non essere sopraffatti da essa ed essere capaci di infondere coraggio e speranza anche chi non ha il conforto della fede che abbiamo noi ricordiamo l'invito anzi l'ordine di Isaia consolate consolate il mio popolo una volta quando si recitava il latino si ricordiamo che diceva consolamini consolamini popole meus era proprio un testo natalizio terminiamo con una bella preghiera della liturgia o Dio che unisci non solo volere le menti dei fedeli concedi al tuo popolo di amare ciò che comandi e desiderare ciò che prometti perché fra le vicende del mondo là siano fissi i nostri cuori dove è la vera gioia per Cristo nostro Signore gloria Patri et Filio e Spiritui Santo grazie a tutti Grazie. Grazie. Grazie.